ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro il collegamento di un interruttore bipolare e una presa va dal contatore all'interruttore e dall'interruttore alla presa in eutro va dal contatore all'interruttore e dall'interruttore alla presa presa va sempre la massa terra sperando sia capito e ci vediamo nel prossimo video ciao